Sono esasperati i residenti che vivono nell'area che insiste tra via del Rosmarino, via delle Alghe e via Matteo Ripa ad Acilia. E' il degrado e il re indiscusso di tutta la zona, un abbandono che parte dal grande terreno comunale che non viene manutenuto da anni e su cui sorge anche una cabina CEA spesso utilizzata come alloggio di fortuna. Questo problema prosegue con la vegetazione incontrollata che invade e rende inutilizzabili i marciapiedi e termina con l'enorme quantità di rifiuti che viene abbandonata ad ogni angolo. La mattina presto la porta è aperta, evidentemente ci va qualcuno dentro, potrebbe succedere qualcosa. Poi il campo è distrutto e dall'altra parte il marciapiede sarà 30 cm ma pieno di erbaccio, nessuno lo pulisce. Ci sono dei pini che cascono gli aghi dei pini e sarà alto 20-30 cm dei pini. La gente deve camminare a lato, sulla strada, perché c'è pericolo delle macchine, che possono succedere incidenti. E oltretutto c'è una signora che ha il marito sulla sedia a rotelle e deve camminare in mezzo alla strada, tutte le mattine perché lo porta a fauna terapia. Escono poi dei topi enormi da questo caso. E qui l'estate tra zanzare, mosche, animali, lì c'è un pino che è caduto e nessuno si è mai preoccupato. C'è il passaggio petonale che non si passa più, dall'altra parte c'è la strada che c'è sempre il passaggio petonale e non passa più nessuno. Perché non passa nessuno? A causa dell'erba fitta. Perché l'erba è venuta dal campo, è venuta fuori l'erba, le fasce dell'erba, i pini e tutto quanto, e quindi non c'è più il passaggio petonale. C'è questo schifo di mondezza in giro. Ecco, la vago io la mondezza, e non c'è il servizio. Qui ci abitiamo noi, non è che ci abita il Presidente della Repubblica, però ci tratta un altro modo. Vuole fare un appello alle amministrazioni. Alla sindacchessa, che io gli ho dato il voto, ma quest'altra volta non glielo dò il voto. È rimasto deluso. Sì, proprio deluso al 100%. Cittadini di serie B, così si sentono gli abitanti di questo quadrante di Acilia. Una maggiore manutenzione del verde sarebbe quanto mai necessaria, perché renderebbe praticabili i marciapiedi. Infine sarebbe opportuno un'approfondita operazione di pulizia per togliere dalle strade rifiuti danni abbandonati.